Chiaramento completato, perde un po' l'ala Raist Gleris, cerca di mantenersi a contatto Rubrabi che però perde qualche battuta pur partendo velocissima, parte piano Ronzinante, Egralce, lotta per il comando Radar in vantaggio, cerca di andare ad attaccare lo runner fish ma forse De Luca cerca solo posizione rimane scoperto Rubrabi e vediamo anche le scelte dei guidatori in una lunghissima fila indiana con Radar al comando e con Rubrabi che propone 150 metri intensissimi di sforzo per essere a fianco del battistrada al paletto di 200, paletto in 15 e 4, Rubrabi con grande spesa però si installa il comando ai 300 di gara tra il primo e l'ultimo una quarantina abbondante di metri, in penultima posizione Ranao e Nando in ultima Rondo Veneziano, sono i due della seconda fila che cercano di iniziare la risalita a largo paletto intanto in 15 e 4, Rubrabi non prende in mano e va via di gas, cerca di far pesare gli asuzzi la risalita agli avversari anche perché la cavalla solitamente soffre un po' in arrivo e quindi una volta aperti i rubinetti si va infatti 15 e 2, la terza frazione la più veloce delle tre, Rubrabi si sta distaccando in avanti ha guadagnato una decina di metri su Radar che rimane in seconda posizione poi runner fish, il segnale al quale Massimo De Luca si è girato a controllare la situazione al passaggio paletto in 15 e 7, un giro attorno all'1 e 2 scarsi, quello di Rubrabi, gli altri evidentemente fanno fatica si è stoppato lì, Runa Wainando che non va oltre la penultima posizione e cerca di agganciare Rio di Roberto che trotta in quarta interna al chilometro paletto in 15 e 9, Rubrabi adesso sembra aver dato il massimo tanto che gli altri si rivecinano molto pericolosamente sposta runner fish in largo anticipo sugli altri poi però torna sotto Massimo De Luca, frazione in 16 e mezzo la più lenta di tutto, il gruppo è compatissimo Rubrabi in vantaggio, Runa Wainando sempre in mezzo alla pista che guadagna qualcosa intanto è Radar a proporsi su Rubra, all'ingresso e addirittura arrivo guadagna bene per Varchi, Ronzinante Grail, frazione in 16 e mezzo e addirittura con Rubra che è stanchissima Radar che viene, poi runner fish e finisce bene anche Runa Wainando assieme a Ronzinante Grail, Radar e Stefano Mazon davanti a Ronzinante Grail e a Runa Wainando che ha girato costantemente scoperto 1.18.3 la media del vincitore chilometro Radar con Stefano Mazon per i colori di casa della scuderia Galdiolo e il training di Gianni Targhetta numericamente 3.18 il probabile e ufficioso ordine d'arrivo linea alla regia